Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video news e info flash perché il nostro The Sims 4 si è aggiornato con una nuova consegna express del delivery. Andiamo a vedere insieme cosa essa contiene. Mi trova Willow Creek nella casetta di un simpatico simmino e partiamo subito dalle novità. Le prime riguardano le porte dei bagni. A quanto pare infatti ragazzi sono state aggiornate e le vediamo subito. Infatti sto notando, guardate un po' l'iconcina, non presenta più simmino e simmina ma presenta un vero e proprio PC. Di conseguenza si è eliminata proprio la questione dei due omini e se preferito aggiornarle così ovviamente i colori restano gli stessi ma credo sia un dettaglio carino. E soprattutto vi faccio vedere che però la porta di un giorno alla spa è rimasta invariata. Quindi in ogni caso abbiamo entrambe le varianti. Oltretutto vi ricordo che tra gli sticker sono comunque presenti gli sticker del simmino e della simmina. Di conseguenza ci può stare. E proprio perché di sticker si parla, nella categoria dei quadri, se vado a mettere gioco base, dovrei trovare nuova roba. Ma infatti vedete abbiamo gli sticker come vi dicevo prima del simmino e della simmina per il bagno. Ma qua ne vedo due belli nuovi. Abbiamo cartello circolare dei servizi. Quindi estintore, scale. Che bello. Questo ragazzi è una chicchetta che serviva da non sapete quanto tempo. Bella la zona dei pannolini, la zona posta, i cestini, non gettare le cose, caffè, bagno, non dar da mangiare la pianta mucca. Qualcosa legato alla salute e soprattutto li vedete, li abbiamo in nero, li abbiamo in azzurro. Questa ragazzi è una cosa molto molto utile. Seppure una piccola aggiunta che secondo me fa la differenza. Guardate un po' che carini questi segnalini dei lotti e dei servizi. Oltretutto qua ragazzi dovremmo trovare, credo nella categoria cianfrusaglie, che è la categoria migliore, lo sappiamo, qualcosa di nuovo. O meglio, credo saranno nuove varianti e ora ce ne accertiamo. Oh beh, intanto qua nelle attività dei bambini abbiamo la borsa spuntini sempre pronti. Che carina, è piccoletta, guardate un po' le varianti. Carina, riprende un po' il pattern degli zaini. Ed è carina, dai, la borsetta per i nostri sim. Fatemi capire se ha qualche peculiarità. No, in realtà è solo un oggetto decorativo. Vediamo un po'. Non è vero, signori. Cliccandoci possiamo fare un pasto veloce, metterlo in inventario e prendere una bevanda. Questo è tanta roba. Carino, carino, carino. Questo mi piace. È davvero un dettaglietto carino. Qua ragazzi c'è una novità. Lo zaino, che ben conosciamo. Eccolo qua. È stato spostato nella categoria conservazione. È stato dato lui un bel refresh. Guardate un po'. Quanti libri che spuntano. Mi piace. E credo anche questo sia un inventario portatile. Infatti possiamo aprirlo e mettere le cose nello zaino. Quindi libri o quant'altro. Questo mi piace. Ragazzi, sono piccoli dettagli. Ma questa consegna express mi piace davvero un sacco. E ragazzi, che dire. Una consegna express dal sottoscritto decisamente gradita. Ci voleva un inventario più carino. Mi piace il fatto che i simmini possono finalmente prendere un succo di frutta o quant'altro. Magari i bambini. Insomma, niente di troppo grande. Ma si sa. Le consegna express aggiungono poca roba. Ma in questo caso, davvero funzionari. E voi, che ne pensate di queste aggiunte? Fatemelo sapere qua nei commenti. Io per questo piccolo video vi dico che è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo che torneranno i video a breve, ragazzi. Perdonate la mia assenza degli ultimi giorni. Ma ragazzi, sto vivendo una situazione un po' rognosetta. Mettiamola così. E quindi non posso registrare, eccetera. Ma tranquilli. Tornerò a brevissimo. Quindi sempre grazie mille per il supporto. Scusatemi. E a breve si tornerà a pieno regime. Detto ciao, però, io vi ringrazio. Vi saluto e vi dico ciao a tutti. Vi saluto e vi saluto.